Musica E direttamente dal salone Parco Valentino apriamo questa puntata in casa Suzuki naturalmente con Marco Suma che rivedo con piacere presente ufficiale come sempre buongiorno Un ciao a te Sonia, un grazie a voi di essere lì in questa splendida cornice che è il Parco del Valentino e poi che dire meglio di così dietro a una Suzuki insomma di fianco e dietro si respira veramente l'aria di questa splendida casa Una bella cornice tra l'altro quest'anno, uno stand che presenta molto bene i suoi prodotti che sono dei prodotti vedi intramontabili, siamo accanto a Jimmy intramontabili Esatto, l'icona finalmente c'è quella nuova, tra l'altro questa in una versione veramente particolarissima e poi cosa dire tutta la gamma ibrida perché continua con lo studio Suzuki sempre un passo avanti quindi tutta la gamma ibrida anche sulle piccole Suzuki a partire da 13.800 quindi qualità e prezzo che è sempre stato un po' il cavallo di battaglia di Suzuki E poi soprattutto tanta tecnologia e quello si vede anche col Suzuki Vitara Tecnologia, sicurezza attiva su tutte le macchine direi veramente tanti passi da gigante, una gamma veramente grande dove potete scegliere dalla più piccola alla più grande all'Icone, al Vitara, all'S Cross, alla Celerio, alla Jimny, alla Ignis, alla Swift abbiamo veramente una gamma completa per tutto e per tutti e direi con delle campagne tra l'altro in questo momento facciamo anche qualcosa di commerciale molto aggressive sia come campagne rottamazioni che finanziarie E infatti la nostra puntata si centrerà sul commerciale ma prima di farlo io volevo presentare anche ai nostri amici Edoardo Suma perché la tradizione continua dell'azienda di padre in figlio e questa è sicuramente la carta vincente di MS Cars State con noi, andiamo a scoprire le chicche con Marco Suma E ci siamo trasferiti qui nella nostra sede, nei nostri saloni di Rivoli, Corso Primo Levi 23C Dopo le bellissime macchine viste allo stand Suzuki al salone del parco del Valentino, chiaramente al salone dell'auto tutto l'usato anche targato MS Cars, non dimentichiamo con garanzie europee e poi soprattutto con tantissime novità Partiamo subito da questa panda e partiamo dalla prima novità Operazione parti e riparti, vi ricordo un'operazione esclusiva targata MS Cars Cosa vuol dire? Vuol dire che date un minimo anticipo che in questo caso possono essere 1000 euro o la vostra vettura in permuta E poi pensate avete piccolissime rate, 122 euro al mese e la cosa più bella qual è? Che potete decidere fra qualche mese se continuare a pagare, se cambiare la macchina o se ripartire con un finanziamento già stabilito Quindi pienamente convinti di quello che fate e soprattutto una sicurezza Chiaramente Panda Lounge del 2013, 1200 benzina con garanzia europea e dentro al parti e riparti avete 24 mesi di furto, incendio, atti vandalici e tutti i servizi che vi spiegheremo qua sul posto Ma parliamo di questa splendida Dacia, questa volta parliamo di Sandero Pensate una macchina del 2016 che ha percorso solamente 24.000 km Chiaramente è un proprietario unico, 1200 benzina ma attenzione perché anche qui parti e riparti, ripeto, con MS Cars in esclusiva Garanzia europea, 24 mesi di furto, incendio, atti vandalici e tutto quello che ne concerne a piccolissime rate Pensate che in questo caso passano 175 euro e anche qui fra 35 mesi potrete decidere se tenere la vostra vettura, saldarla o continuare a ripartire con un finanziamento bassissimo E non dimentichiamoci che abbiamo anche vetture usate da spendere qualche soldino in meno, soprattutto macchine risparmiose come in questo caso di una splendida Astra 1.6 benzina ma attenzione GPL Una macchina a 5 posti, molto bella, 5 porte, anche qui parliamo di un 2011 e anche qui parliamo di un party e riparti in tranquillità con MS Cars Pensate su Opel Astra, 147 euro, virgola 98 al mese per 35, poi potete decidere se tenerla, se saldarla o continuare a pagarla o cambiarla con un'altra vettura nuova usata targata MS Cars E' ancora tanto e tanto usato in MS Cars, oggi vi facciamo vedere qualcosina come DR5 a 4.200 euro, una macchina con l'impianto GPL ufficiale, macchina ancora splendida con garanzia 8.300 questa splendida Toyota RAV, anche qui 2009, proprietario unico, macchina veramente pari al nuovo cambio automatico Ci soffermiamo su questa vettura che abbiamo appena ritirato, una macchina direi semi nuova perché è del 2015 a 52.000 km, soprattutto è una versione veramente completa Parliamo di Cross Up ASG, cosa vuol dire ASG? Che qui avrete anche il cambio automatico E per finire, Pandina, veramente questa ve la vogliamo presentare perché è tramontabile, 2.400 euro, i neopatentati all'ascolto venite Perché è una macchina ancora veramente splendida, parti riparti su tutto l'usato e sul tutto il chilometro zero targato MS Cars Bene, concludiamo sempre dal Salone Parco Valentino ricordandovi che ci sono tante novità in casa Suzuki Un grande saluto va a Edoardo Suma che vi ricorda l'indirizzo Corso Primo Levi 23 Rivoli Un grande saluto naturalmente va al papà Marco, alla prossima Un ciao, grazie Sonia, come sempre vi aspettiamo a Rivoli, non perdete l'occasione Grazie a tutti